La formazione Under-17 delle Mura Spring Lucca vince la Coppa Toscana di categoria, battendo 51-41 sul neutro di Volterra, il Jolly Acli Livorno. Un successo meritato, bellissimo, in parte inaspettato per le ragazze di Chiara Tessaro, poiché alla vigilia le labroniche erano considerate la squadra da battere. Il Jolly Livorno veniva infatti da un percorso netto in fase di Coppa Toscana e sembrava logico predestinato alla vittoria, ma si è trovato al cospetto di una squadra lucchese compatta e determinata a sovvertire il pronostico. Gare in equilibrio nella fase iniziale, nel secondo quarto le Livornesi con due triple consecutive tentavano l'allungo, ma le Spring ricucivano con calma e passavano in vantaggio 27-25 all'intervallo lungo. La svolta nel terzo quarto, quando le Biancorosse serravano le fila difensive, raddoppiando in area sulle bocche da fuoco avversarie e al contempo colpivano in contropiede. Al sesto minuto il vantaggio delle Lucchesi era già di più 9 per toccare la doppia cifra all'ottavo e chiudere il quarto sul 39-31. Ultimo quarto in controllo per le Spring che mantenevano il vantaggio intorno ai 10 punti, mentre i secondi passavano e si aspettava solo che la Sirena certificasse la vittoria. Alla fine è stato un trionfo che naturalmente è di buon auspicio anche per tutto il settore delle Mura Spring e anche per il nuovo direttore sportivo Imma Gentile.